eccoci qua ragazzi siamo da flippers abbiamo deciso di fare un piccolo snack questo è uno dei giggettonati a Tokyo io amo il pancake non so se ve l'ho mai detto siccome tutte le volte che siamo venuti c'è sempre stato un botto di fila oggi sono solo 7-8 persone quindi vediamo vi faccio vedere dove giusto di là c'è una traversa di Motesando la via dello shopping qui a Tokyo tu che ne dici hai fame? stiamo scegliendo io prenderò questo qua con la frutta poi credo un caffellate un cappuccino due me lo faccia per due per favore stiamo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.